Una donna di 80 anni è stata rapinata a Mirto Crozia da due persone col viso coperto che si sono introdotte nella sua abitazione. I due banditi, dopo aver immobilizzato la donna, l'hanno legata con un nastro adesivo per poi mettere a suo quadro la casa alla ricerca di denaro. Il bottino della rapina è di 250 euro. Dopo aver prelevato il denaro, i due rapinatori hanno liberato l'anziana e si sono allontanati. È stata la stessa donna ad avvertire i carabinieri. Il prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sanmartino, su delega del ministro dell'Interno, ha disposto un accesso ispettivo antimafia al comune di Rizziconi, al fine di compiere accertamenti mirate a verificare se emergano forme di infiltrazione, di condizionamento di tipo mafioso o abbiano condizionato il buon andamento e l'imparzialità di quell'amministrazione comunale. L'accesso verrà effettuato da una commissione appositamente nominata e dovrà essere perfezionato entro tre mesi, prorogabili di ulteriori tre qualora necessario. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno salvato Mirto Crosio, un uomo di 51 anni, precipitato accidentalmente in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 12 metri. L'uomo, che stava facendo pascolare un greggio, in seguito alla caduta ha riportato una serie di ferite e fratture per le quali è stato ricoverato con prognosi riservata all'ospedale annunziata di Cosenza. La compagnia di Vibo Valencia e della Guardia di Finanza ha sequestrato 1200 giochi d'artificio illegalmente detenuti. Il sequestro è stato seguito in alcuni negozi gestiti da persone di nazionalità cinese. Le fiamme gialle di Vibo, negli stessi negozi, hanno anche sequestrato 61.000 prodotti di vario genere per un valore complessivo di 250.000 euro, alcuni dei quali destinati a bambini considerati potenzialmente pericolosi perché privi dei requisiti di sicurezza.